musica 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 bello a tutti ragazzi io sono Alex e io sono Gizios e oggi ragazzi siamo su un episodio molto speciale perchè siamo su una mappa inventata da me da lui da l'avvizzito che si vede subito che c'ha l'avvizzito oddio cos'hai intenzione cosa è io? io guardate il mio schifo che bello siamo su guardare anche l'avvizzito che mangio dei conti che stupido allora stiamo dicendo che l'ho creata io in creativa quindi l'ho creata in creativa e una mappa arena io porto con 8 riprendi perchè sono più bello no perchè sono più scarse quindi e vi faccio vedere un po' come vieni qua facciamo vedere un po' come io ho fatto su ogni angolo questa qua trovate come qua portare del nether del land una con strani un'altra scelta di un pilarone blu ma si vabbè poco importa iniziamo e la scopriranno solo vivendo come avrete scoperto c'è il wither e allora io sono sulla lane tra virgolette sembra un po' lucky blocks io sceglie la lane blu e Ale la lane blu io quella rossa mi hanno già dormito così adesso Ale dovrà averne messo a disposizione infatti un secchio d'acqua no ma facciamo il taglio vabbè intanto vi faccio vedere un secchio d'acqua un secchio di latte che cosa che ho messo a disposizione del pubblico delle patate diamanti ferro il mondo da farci un'aromatura no? eee tutte queste pozioni che mi spazzano il dosso e per me il coscio è molto beck no è l'acchiettezza che ti fa guarda quanto fa di vedere nooo 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 si eeehm tengo a cuore ciao no aspetta fammi vedere no non puoi entrare nel mio camerino sono qua ah il mio camerino e io cosa ti faccio no aspetta filmo filmo cosa ti faccio io dai bro no no è lì o cos'è ma cos'è ma cos'è va bene non ne capire non ne sapremo mi sa vabbè ok allora ragazzi abbiamo finito no no io non ho finito niente vabbè vabbè io ho finito vi ho degli strani il mio inventario e ci andando a caso perchè Alan non ha messo le librerie ho una spada con percossa no lei l'ho fatta apposta era tutto fatto ho una spada con percossa no è vero ho una spada con percossa 2 che non so cosa sia percossa un'arco competenza scrivetecelo ecco scrivetelo nei commenti cos'è percossa non metto che ha protezione dopo ve lo dico io una la cosa la canotta che ha protezione le gambelle che sono protezione la fuoco 1 e gli strevaletti che sono caduto della pia adesso vi dico io io ho una spada aterramento 1 acutezza 1 vai sulla tua legna l'arco competenza 1 vai sulla tua legna io sto nel mezzo vai sulla tua legna ok vai sulla tua ehm la testa della guida no cosa fai no vai comincia aspetta i sapeti nooo ok questa è un'arena e ho messo anche delle geste che questi no vai fermo guarda ma parano sto parlando cosa cosa sono entrati ender per le pull ender per i caot la torta oh perchè vado andavo più lento oh 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 mi parla mi parla mi parla il gioco mi parla nooo perchè vado lento perchè vado lento ah già la roba ehm oh io prendo i cani ho preso i cani no la spada ah lo ripreso no questo è andato no oh oh io vado nel end nooo non pazzerò c'è l'endel dragon aaaah che ammazza che stai facendo prendo la spada di dio spada di dio spada di dio ok no mi sto puntando oh mi sono vinto non vale io sto puntando il te mi sono caduto tutto fuori cosa non vale ti ho preso l'incorso del tutto no vai via oh da poco cos'è oh oh no 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 non posso nooo non è male ma io ho preso di poter ritornare a casa da lì invece non posso è vero perchè anche io sono andato qua dobbiamo di suicidarsi va bene eh allora c'è uno pari ah ah come c'è uno pari esce ti metti il gioco eh ragione c'è uno pari oh cosa fai nella mia ah no è la mucca ma ci sono fusi tu cioè non è che ti sarò che ti stai ammazzando i fiver i fiver i fiver cosa c'è qua oh shakani ed per noi no 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 non la fa pure no vabbè cosa c'è questa spada eh dio hai chiamato tu spada di dio well la mia monna mi manda la c'è dietro la mia monna ciao c'è no star to che sei pianto ma c'è no 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 dimostro oddio bastardico no ma non vale la vita Sì, sì, la nether, 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 oddio il pigman, siamo uno pari per adesso, oddio, ho un cuore, pigman, io stavo lanciando la testa di scheletro, hai preso tutte tu, si, oddio, no, 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 perché mi sono morto nella la, cioè, stiamo morendo a caso, no, 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 vai via, 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 e devo ancora esplodere qualcosa fa il culo ho fatto esplodere ti faccio esplodere la mappa adesso cosa fai con l'attività? faccio esplodere le pompe no non vedi da me eh oddio guardalo guardalo come si salva delle streghe perchè mi stanno no sei già li no lì ci sono e me ne dormo prendi fuoco enderperma ti odio no non muore sta caso di cosa cioè no è mezz'ora guardala non lo sai che ma no guarda cosa c'è qua lentezza attività forza amante fiamma è finita potenza G stai scherzando quest'arco è fuorissimo oddio oddio come esco però? come esco? come esco? come esco? i miei cari non sono morendo agonizzando io come esco? come esco? non so come uscire devi scendere da giù eh rompi la mano basta bocca mi hai rotto non so come esco non so come esco la tua ma esco la tua ma esco la tua non ci rompe non ci rompe eh dopo un po' si ci dai dai mezz'ora di video oddio rabbite sono qui sono qui no 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 sono in gabbia non fanno i piedi ho l'arco di diva non vale ma io sto per correre c'è l'arco di diva anche dai ti devi scappare no chi è sta l'acqua oh nel caso oh cos'è che? nooo sei a 3 a 3 no no sei a 4 no 4 a 3 4 a 3 mi hai rotto un certo sono finito in gabbia ma che mi ha vele ho due volte di spada dica si non me l'adoro si 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 prendo tutto no dai prendo quanto dura ancora sto veleno 12 secondi di veleno oddio oddio adesso mi ti uccido no no 5 4 per me e basta ciao no come andiamo no sto vincendo sai che metto solo pensando l'invisibilità vengo a uccidere ce l'hai? si ancora aspetta ti faccio vedere l'ultima cosa se non so io o se non ce l'hai? no no nooo guardate guardate so che ti piacciono ahahahah ahahah 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 bene bene direi che in questo episodio è proprio un punto di seguire quindi se vi dico in un appartamento insomma mettete mi piace iscrivete ahhh 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 e quindi se vi dico in un commento mettete mi piace e vi dico in un prossimo video e mettete mi piace perchè sono riuscito a battere Haller sul stesso gioco quindi bella aia ma ha fatto malissimo quindi c'è un piano bella ragazzi quindi è vero non è molto bello che tu ci metta ma cosa potresti me nasconderci? hehehehe penso di saperlo dopo tutto ci conosciamo da tanto tempo si fa piccolo picco ok bello ahahah quello che pure nasconde è eh? che si è messo a dieta